Di Maio, momento importante, ha prevalso la responsabilità Mi fa piacere che abbia prevalso la responsabilità. È un momento importante. . Lo ha detto il capo politico delle M5S, Luigi Di Maio, parlando con i cronisti a margine di una cena in un ristorante del centro di Roma. Giovedì, ha aggiunto, ho intenzione di incontrare Matteo Salvini, iniziamo dai temi poi i nomi. . La cosa importante è il contratto di governo, ci sono soluzioni che gli italiani aspettano da 30 anni. .